Ci spostiamo, o meglio, in realtà rimaniamo proprio qua perché stiamo per parlare adesso di quello che avviene nella sede di Radio Beckwith, non proprio nella sede negli studi, nella redazione, ma nel luogo che ospita anche la nostra radio, ovvero Villa Olanda. Questa splendida struttura di Luserna San Giovanni in Val Pellice, una struttura che ha avuto insomma una storia davvero molto ricca, molto avvincente e che si sta rilanciando sempre di più anche come servizio al territorio attraverso una serie di progetti del servizio Giovani Territorio della Diaconia Valdese. Noi abbiamo invitato per farceli un po' raccontare Bianca Chiappino che è qua con noi. Ciao Bianca, benvenuta. Ciao, buongiorno a tutti e tutti. Buongiorno a te. Allora, Villa Olanda aperta a tutti e a tutte, davvero vi siete lanciati in una carrellata di proposte. Esatto, sì, io sono un'animatrice socioculturale che lavora per il servizio Giovani Territorio, quindi sì, aperta a tutti e a tutti, però nello specifico oggi vi parlerò un pochino di più dei progetti che rivolgiamo ai più giovani. Bene, sì, partiamo dai cinque anni in su, in realtà poi arriverò anche a parlarvi di un'iniziativa in realtà poi effettivamente aperta a tutte le età. Bene, quindi partiamo dai più piccolini. Quali sono le proposte? Partiamo dai più piccolini. La proposta è il lunedì pomeriggio laboratori creativi. Quindi tutti lunedì pomeriggio, seguendo ovviamente il calendario scolastico, tutti lunedì pomeriggio dalle 5 alle 18.30 laboratori creativi gratuiti. Quest'anno abbiamo selezionato quattro tipologie di laboratori. Abbiamo il laboratorio teatrale che ci sarà proprio lunedì prossimo, lo dico per primo perché sarà proprio lunedì prossimo, il 30. Poi abbiamo il laboratorio di riciclo creativo, laboratorio di espressione artistica e poi la scienza in gioco. Quindi abbiamo cercato anche di offrire cose un po' diverse da solito. Esatto, quindi l'idea è proprio quattro tipologie di laboratori che si alterrano con la stessa scadenza e si ripetono ciclicamente, quindi ogni quattro settimane si ritorna a fare lo stesso laboratorio. La stessa tipologia, non lo stesso laboratorio ovviamente. L'idea è proprio quella di non offrire un corso in cui bisogna iscriversi, non offrire una situazione dove viene richiesta una presenza assidua, ma uno spazio tendenzialmente libero per cui i laboratori iniziano dalle 5 alle 18 e 30, proprio per dare il tempo di uscire da scuola a fare merenda e poi venire qui. E se fa bello si gioca anche un pochino fuori mentre prepariamo. Ma ogni lunedì facciamo un qualcosa che inizia e finisce. Quindi espressione artistica, si finisce con un qualcosa di creato, riciclo creativo, esploriamo un po' tutti i materiali comuni che si possono trovare in casa. Siamo partiti l'anno scorso utilizzando le mascherine ad esempio, con cui si può trovare un sacco di cose. Quindi non buttatele via, ma andate al laboratorio di riciclo. Esatto, abbiamo utilizzato davvero i vasetti dello yogurt, i guanti, quelli uso e getta che poi scadono, non si possono più utilizzare, e ci siamo inventati gallinelle per Pasqua. Esploriamo materiali di ogni genere. Se non sbaglio tra due settimane utilizzeremo i barattori di metallo, quelli dei ceci, dei legumi. Bene. E questa è un'iniziativa appunto per i più piccoli. Esatto, l'età è elementare. Tendenzialmente facciamo già dei cinque perché chi magari ha i fratelli un po' più grandi o fa l'ultimo anno di scuola materna, vuole già iniziare a provare a esplorare qualcosa, ovviamente si può venire. Proseguendo abbiamo invece, ci spostiamo al venerdì. Sul venerdì sera, tutte le sere, quindi ogni venerdì, alterniamo due tipologie di iniziative. Quindi ogni 15 giorni c'è la serata giochi da tavolo e questa è appunto l'iniziativa rivolta un po' a tutte le età, per cui non c'è un'età fissa, predeterminata, si può venire con i genitori, si può venire da soli per conoscere persone, si può venire col proprio gruppo di amici e quello che noi mettiamo a disposizione è lo spazio, riscaldato, accogliente, bello e colorato e tanti giochi di società. Ogni tanto qualcuno porta anche da casa un proprio gioco perché magari ci sono quei giochi che ci vengono regalati, che ci stussicano, vorremmo provare ma o non ci sappiamo giocare o abbiamo bisogno di un numero più grande di persone. E l'idea è quella, per cui a volte quello che proponiamo è di portare magari un gioco dove bisogna essere in tanti e qui c'è effettivamente l'occasione di trovare persone che hanno voglia di sperimentare. Condividere con un gruppo. Esatto. Anche questo è gratuito ovviamente. Ovviamente tutte le iniziative di Che Parlere oggi sono tutte gratuite. Tutte libere e gratuite, benissimo. Quindi serata giochi il venerdì sera. Il venerdì sera, esatto, dalle 8.30 alle 11.30, quindi tre ore per poter giocare, esplorare, stare insieme e divertirsi. Una serata che è partita già da gennaio, abbiamo iniziato a sperimentarla, abbiamo iniziato una volta al mese, poi siccome la frequenza era molto buona abbiamo deciso di implementare quindi ogni due settimane. Che si alterna quindi con un altro tipo di venerdì sera. Una sperimentazione, un progetto nuovo che abbiamo lanciato a inizio di questo mese che si chiama Ti Interessa, ovviamente teen, teressa. Giovani, giovani teen. Giovani teen e quindi la fascia d'età è 15-17. Ti interessa appunto è uno spazio nuovo, è appena partito e ha ancora tutto da costruire. È uno spazio che vuole essere uno spazio aperto, libera fruizione per quella fascia d'età, per provare a fare qualcosa insieme. Il cosa ci andremo a mettere potremo vederlo un po' insieme con chi avrà voglia di viverlo, questo spazio. Ci saranno, per provare un po' a lanciarlo, farci conoscere, ci saranno degli eventi un po' speciali, un po' più organizzati, il 24 novembre e il 22 dicembre, quindi uno al mese, per i prossimi due mesi, in cui stiamo costruendo degli eventi speciali, qualcosa che va un po' nella direzione, proprio perché, come dicevi tu, Villolanda è uno spazio molto bello, molto antico, che ha vissuto tanta storia, con un parco anche molto bello, e quindi stiamo costruendo qualcosa che va un po' nella direzione della serata mistero, dell'escape room, qualcosa che va in quella direzione, ma ci stiamo ancora lavorando. Bene, quindi attenderemo maggiori informazioni. Quindi alternato il venerdì sera, questa serata ti interessa con la serata giochi. Esatto, entrambe le serate partono all'otto e mezza, la serata rivolta alla fascia teen finisce un pochino prima, fino alle dieci e mezza, per permettere anche di tornare tranquillamente verso casa. Bene. Esatto, e poi invece abbiamo un'altra iniziativa, anche questa rivolta un po' a tutte le età, pensate più sulla fascia superiori università, ma in realtà è uno spazio aperto, abbiamo un'aula studio. Abbiamo nel primo piano di Villolanda, che è lo spazio che non ospita uffici, abbiamo allestito due sale contigue, aperte dalle dieci del mattino alle diciotto e trenta del pomeriggio, con orario continuato, intanto qui abbiamo la macchinetta del caffè, abbiamo la caffetteria cose buone, per cui effettivamente uno qua può passarci la giornata, ed è un'aula studio, uno spazio dove si può eventualmente anche fare co-working. Sono due sale allestite in maniera diversa, abbiamo una sala più formale con il classico tavolo e sedia e tutte le prese di corrente per chi si porta il computer, il wifi gratuito, a libera fruizione, e una sala contigua invece, sempre pensata per studiare o per piccole riunioni, allestite più in maniera informale, con dei divani, proprio uno spazio un pochino più informale, dove poter anche studiare magari, ma in situazione più rilassata. E questo è un servizio, insomma, a disposizione davvero di tutte e tutti coloro che magari hanno qualche difficoltà a studiare a casa, che non hanno uno spazio forse dedicato, tranquillo, dove potersi concentrare. Esatto, l'idea è proprio quella di poter... l'abbiamo pensata inizialmente pensando soprattutto a chi frequenta le scuole superiori e magari arriva a Torrepellice e Luserna, perché noi ci troviamo sul confine dei due territori, magari tornare dalle scuole superiori e magari avere un'attività o un incontro con gli amici più nel pomeriggio o tardi e avere quelle poche ore magari che non permettono di tornare a casa, soprattutto se si abita nei comuni più dell'Alta Valle o nelle borgate. Quindi potersi fermare a Villolanda. Esatto, quindi è uno spazio in cui si può passare un po' di tempo, anche semplicemente rilassandosi, magari nell'attesa di fare qualcos'altro nel dopo e non dover per forza andare in un bar dove bisogna per forza consumare o dove non sempre si ha proprio agio. Certo, quindi insomma una serie di davvero di proposte e di servizi per i più piccolini, per gli adolescenti e anche per i ragazzi, giovani uomini, giovani donne che magari hanno già un percorso di studio universitario. Bianca, ma se qualcuno fosse incuriosito e volesse sapere qualcosa in più, volesse magari avere dei contatti, come può fare? Vi lascio i nostri contatti, ovviamente. Allora vi lascio, innanzitutto il numero di telefono che è il 366-68-54881, a cui rispondo io, quindi potete anche solo mandarmi un messaggio e io vi rispondo di sicuro. Poi vi lascio una mail, se preferite, che è gioveneterritorio-diaconia.org e poi ci trovate su tutti i canali, tutti i social, sia su Facebook che su Instagram e abbiamo anche un canale Telegram, quindi se volete avere più informazioni basta che cercate su Telegram Giovani Territorio o sugli altri social, ci potete contattare anche tramite questi altri canali. Bene, grazie allora per averci illustrato un po' tutte queste novità, buon lavoro, buona continuazione in vista appunto anche delle iniziative che state organizzando e delineando. Grazie Bianca Chiappino e buon lavoro a te e a tutto il tuo gruppo, alla tua staff. Grazie a te, grazie agli ascoltatori, vi aspettiamo, siamo qua. Assolutamente, invitiamo tutte e tutti ad informarsi, quantomeno a sapere che c'è questa possibilità. Poi ovviamente ognuno sceglierà se e cosa può essere utile, però insomma già sapere che c'è la possibilità di fruire di locali aperti, gratuiti, riscaldati, accoglienti è già mi sembra una grossa cosa. Alla prossima, noi continuiamo la nostra puntata.